una montagna di bugie bufale messe insieme a quale fine ancora stiamo cercando di capirlo che si è creato anche un brand di marco calta girone ne parlano tutti tante bugie da tanti non detti da tante montagne di profili fake che attaccano i vip li ammaliano gli agguantano tentano di capire i loro segreti per poi non lo so ricattarli io mi vergogno di tutta questa situazione la saga del fantomatico mark calta girone inesistente milionario che avrebbe dovuto sposare l'ex subretta pamela prati prima donna del bagaglino degli anni 90 ha ormai superato abbondantemente il confine del gossip per sfociare in una vicenda dagli aspetti inquietanti ci sono anche delle indagini ci sono dei risvolti giudiziari perché hanno fatto delle denunce sono stati utilizzati dei bambini addirittura dei minorenni in tutta questa storia scritturati da questa agenzia sono state utilizzate delle foto di persone totalmente inconsapevoli però è una storia che parte al suo centro in calabria calabrese di chiaravalle in provincia di cadanzaro e pamela per ricciolo detta donna pamela che secondo quanto ricostruito da fanpage avrebbe un padre e un fratello condannati un anno fa a lunghe pene detentive per reati di indrangheta in combutta con l'ex tronista eliana michelazzo e forse la stessa prati la perricciolo avrebbe messo su un sistema che utilizza falsi profili social come quello intestato a mark calta girone per accalappiare vip e politici costringendoli ad esporsi in conversazioni private qualche anno fa nella stessa rete sarebbe finita anche vanda ferro parlamentare calabrese di fratelli d'italia candidata in pectore alla presidenza della regione per il suo partito che con l'inesistente calta girone avrebbe intrecciato una relazione via facebook fino addirittura a incontrare il presunto figlio adottivo del milionario sebastian in quel periodo l'obiettivo era boicottare la campagna elettorale di vandaferro tutto costruito ad arte a quanto pare per renderla vulnerabile a imprecisati ricatti ad avvertirla che volevano screditarla è stata un'altra calabrese alessia bausone attivista del pd per i diritti civili e da qualche giorno consigliere comunale di san luca finita anche lei nel mirino dell'anonima ditta sforna gossip senza però cadere nel tranello io sono stata contattata a gennaio 2018 da un profilo chiamato marco calta girone prima ancora che pamela prati facesse parte di quell'agenzia o la conoscesse quel profilo voleva screditare vandaferro l'ho capito subito perché mi diceva che avevano erano promessi sposi calta girone vandaferro avevano questo bambino in comune che tra l'altro aveva un tumore il padre presunto mi scriveva che questo bambino aveva un tumore alla gola e che vandaferro era una madre anaffettiva dal canto suo vandaferro è molto abbottonata sulla vicenda e sino ora si è trincerata dietro dichiarazioni telegrafiche a sbrogliare la matassa alla fine sarà probabilmente la magistratura e sarebbe anche ora visto che questa brutta storia con il gossip non ha più nulla a che fare famela non so più cosa dire io spero che questa cosa finisca non ne voglio più parlare nemmeno io basta basta nemmeno io veramente non ne posso più non ne può più neanche la gente secondo me Enrico De Girolamo per la Cinews 24